Abbiamo pensato di realizzare un girarrosto, chiamiamolo così, dove noi andiamo a installare il filo spinato che abbiamo deciso con l'artista e con questo girarrosto noi ci iniettiamo sopra il gel. Siamo arrivati lavorando con l'ufficio tecnico, lavorando insieme ai nostri ragazzi chimici, siamo riusciti a trovare la soluzione giusta e fare un bel gel denso in modo tale che funzioni e che riusciamo a realizzare l'opera. I look into materials and I play with the materials and see what can the material do, apart from what it usually does. In questo caso, I looked for a material combination, quindi non lasciare la tecnoguille per se, ma mettere in un'altra materiale so che i due giorni con le forze in modo da diventare qualcosa che non era prima, qualcosa che magari è interessante a vedere e magari è interessante a toccare. e quindi ci sono un'altra materiale che mi ha fatto tutto, perché è il contrario di quello che tecnoguille è uscita, non è molto forte per il corpo, è molto forte per il corpo, è un'attività di nato, è come a barbwire, ma anche più difficile, è come a blade wire che è usato a block off spaces, e è usato in war situazioni, così che i soldi non possono passare il campo di barbwire, e a crossar qualcosa, è un vero hard core materiale, molto molto bene per le persone e anche per gli animali. Questo è un materiale che non è per toccare, l'altro è per toccare, per non armiare le persone, e quindi ho pensato, cosa faremo insieme?